Siamo alla seconda fase del seminario di studio di Ocesano che rimette al centro il lavoro, però un lavoro dal volto umano. Don Gianni, qual è stato il senso di questa iniziativa, dato che appunto c'è stata una prima parte di spunti, riflessioni e proposte? Il tema del lavoro oggi come oggi è un tema fondamentale, è la prima urgenza. Anche il Cardinal Bagnasco, aprendo ieri i lavori del Consiglio per la conferenza episcopale italiana, ha affermato che il lavoro è un'urgenza, è una priorità pastorale e qualsiasi altro problema, qualsiasi altra tematica viene avvertita dalla gente come secondaria, perché oggi come oggi c'è un disagio che ha raggiunto davvero un livello molto ma molto alto. Da qui la necessità di occuparci del lavoro, occuparci del lavoro perché ci interessa l'uomo e soprattutto colui che vive nella precarietà. Abbiamo voluto dare al seminario di studio un tono operativo, non dottrinale, perché l'intento è quello di individuare strumenti, processi in grado di ridare dignità a chi l'ha perduta a causa di un lavoro precario oppure a causa di un lavoro che non c'è più o di un lavoro che ahimè sta perdendo proprio in questi giorni. È importante, è importante il lavoro della Chiesa, è importante il lavoro delle parti sociali, è importante l'impegno da parte di ciascuno di noi per cercare di orientare il presente verso un futuro migliore, attraverso gesti concrete, attraverso scelte coraggiose, attraverso parole più credibili. Rassentivamo proposte, gesti concreti nella prima fase di questo seminario di studio diocesano, quali sono stati? Nella prima fase in cui sono stati chiamati e raccolte i vari operatori pastorali in rappresentanza di tutte le parrocchie della diocesi si è fatto un confronto su quelli che possono essere i bisogni avvertiti all'interno delle comunità rispetto al tema del lavoro. E poi nella seconda serata abbiamo voluto riflettere su delle azioni concrete, su degli orientamenti anche di carattere pastorale da mettere in atto nelle comunità. E quindi l'equipe che ha lavorato a questo lavoro di sintesi ha prodotto nuove asset di impegno, tra questi ad esempio ne cito alcuni come il rilancio della pastorale sociale del lavoro, come attenzione al territorio, attraverso alcuni strumenti come il forum di partecipazione e impegno sociale e politico, oppure l'attenzione al mondo del lavoro attraverso uno strumento che già è presente come il microcredito, il progetto Barnaba, ecco, lo possiamo rilanciare oppure ripensare le parrocchie, le comunità, gli oratori come centri di formazione alla vita vita del giovane che parte dalla scuola e finisce nel mondo del lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.